Annabeth Dopo un po', Annabeth cominciò a sentirsi i piedi come una poltiglia di titano. Continuava a camminare dietro Bob, ascoltando lo sciaguattare monotono del liquido dentro il suo spruzzatore. «Resta in allerta», si ripeteva, «ma era dura». I suoi pensieri erano intorpediti quanto le gambe. Ogni tanto Percy le prendeva la mano o le diceva qualcosa di incoraggiante, ma Annabeth intuiva che quel paesaggio buio e disolato stava avendo effetto anche su di lui. I suoi occhi avevano una luce opaca, come se il suo spirito si stesse lentamente spegnendo. «Persi è caduto nel tartaro per stare con te», disse una voce dentro la testa della ragazza. «Se muori, sarà colpa tua». «Smettila!» gridò Annabeth. Percy aggrottò la fronte. «Di fare cosa?» «No, non tu». Tentò di rassicurarlo con un sorriso, ma non ci riuscì. Parlavo da sola. Questo posto mi confonde, mi fa venire dei brutti pensieri. Le rughe d'espressione intorno agli occhi verde mare di Percy si accentuarono. «Ehi, Bob, dove siamo diretti di preciso?» «Dalla signora», rispose il titano. «Per la foschia della morte». Annabeth soffocò l'irritazione. «Ma che significa? Chi è questa signora?» «Vuoi sapere il nome?» Bob si voltò a guardarla. «Non è una buona idea». Annabeth sospirò. Il titano aveva ragione. I nomi erano potenti e pronunciarli lì nel tartaro probabilmente era molto pericoloso. «Almeno puoi dirci quanto manca», domandò. «Non lo so», ammise Bob. «Lo sento e basta. Aspettiamo che il buio diventi più buio. Poi andiamo da una parte». «Da una parte», mormorò Annabeth. «Certo». Era tentata di implorare una pausa, ma non era il caso di fermarsi. Non in quel posto freddo e buio. La nebbia nera filtrava nel corpo, trasformando le ossa in polistirolo bagnato. Annabeth si chiese se il messaggio sarebbe giunto a destinazione. Se Rachel fosse riuscita in qualche modo a recapitare la proposta a Reina senza rischiare la pelle. «Una speranza ridicola», disse la voce nella testa della ragazza. «Non hai fatto altro che mettere Rachel in pericolo. Anche se trovassi i romani, perché Reina dovrebbe fidarsi di te, dopo tutto quello che è successo». Annabeth fu tentata di zittire di nuovo quella voce, con un grido, ma si trattenne. Anche se stava impazzendo, non voleva darlo a vedere. Aveva un bisogno disperato di qualcosa che le sollevasse il morale. Un sorso di vera acqua, un raggio di luce, un letto caldo. Una parola gentile da parte di sua madre. All'improvviso Bob si fermò. Si portò un dito alle labbra. «Che c'è?» Bisbigliò Percy. «Shh!» Intimò il titano. «Davanti a noi! C'è qualcosa che si muove!» Annabeth drizzò le orecchie. Da qualche parte nella nebbia udì una sorta di ronzio profondo, come il motore di un grosso macchinario acceso al minimo. Percepiva le vibrazioni nella suola delle scarpe. «Lo circonderemo!» bisbigliò Bob. «Voi coprite i fianchi!» Per la milionesima volta, Annabeth rimpianse il proprio pugnale. Raccolse un pezzo di ossidiana scheggiata e si mosse con molta cautela verso sinistra. Percy andò a destra con la spada in pugno. Bob avanzò al centro. La punta della sua lancia baluginava nella nebbia. Il ronzio aumentò, facendo tremare la ghiaia sotto i piedi. Il rumore sembrava provenire da un punto di fronte a loro. «Pronti!» mormorò Bob. Annabeth si accovacciò, preparandosi a saltare. «Al tre! Uno!» bisbigliò Percy. «Due!» Una sagoma comparve nella nebbia. Bob sollevò la lancia. «Aspetta!» strilò Annabeth. Il titano si bloccò appena in tempo, con la punta della lancia sospesa a una manciata di centimetri dalla testa di un gattino pezzato. «Miau!» fece il micino, per niente impressionato dal piano di attacco. Untò la testolina contro il piede di Bob e cominciò a fare le fusa. Sembrava impossibile, ma il ronzio profondo proveniva da lui. Quando faceva le fusa, il terreno vibrava, tanto da far sobbalzare i ciottoli. Il micio puntò i suoi occhi gialli come lampioni su un sasso proprio fra i piedi di Annabeth e con uno scatto felino la raggiunse. Quel gatto poteva essere un demone o un orrendo mostro degli inferi travestito. Ma Annabeth non riuscì a resistere. Lo raccolse e cominciò a fargli le coccole. La creaturina era molto suda sotto la pelliccia, ma per il resto sembrava normalissima. «Come?» Annabeth non riusciva nemmeno a formulare la domanda. «Che ci fa un gattino nel...» Il diretto interessato si spazientì e si divincolò dalle braccia della ragazza. Atterrò con un tonfo sordo, zampettò verso Bob e ricominciò a fare le fusa, strofinandosi contro i suoi stivali. Persi rise. «Credo che tu gli piaccia! Deve essere un mostro buono!» Bob alzò lo sguardo, nervoso. «Vero?» Ad Annabeth salì un gruppo in gola. Alla vista di quel titano enorme insieme al gattino, all'improvviso si sentì insignificante nell'immensità del tartaro. Quel posto non aveva rispetto per niente per nessuno, buoni o cattivi, piccoli o grandi, saggi oppure sciocchi. Il tartaro inghiottiva indiscriminatamente titani, semidei e gattini. Bob si inginocchiò e raccolse il gatto. La bestiola stava benissimo nel palmo della sua mano, ma decise di andare in esplorazione. Gli si arrampicò sul braccio, si accomodò sulla sua spalla e chiuse gli occhi, facendole fusa come un escavatore. Ad un tratto la sua pelliccia scintillò. In un lampo il gattino divenne uno scheletro spettrale, come sotto una macchina per i la GX. Poi tornò come prima. Annabeth strizzò gli occhi. «Avete visto?» «Sì». Persia grottò le sopracciglia. «Cavoli, conosco quel gatto. È uno di quelli del museo di Washington, dello Smithsonian». Annabeth non era mai stata allo Smithsonian con Persi. Ci mise qualche attimo per capire. Ricordò che alcuni anni prima, quando il titano Atlante l'aveva catturata, Persi e Talia avevano guidato un'impresa per salvarla. Lungo il tragitto, avevano assistito a un rito in cui Atlante aveva fatto sorgere dei guerrieri scheletro, da certi denti di drago recuperati proprio nello Smithsonian Museum. Secondo Persi, il primo tentativo del titano era fallito. Per sbaglio aveva piantato delle zanne di tigre preistorica e dal terreno erano spuntati tanti bei gattini. «Uno di quelli, veramente?» disse infine Annabeth. «Com'è finito qui?» Persi allargò le braccia. Atlante ordinò ai suoi scagnozzi di portarli via. Forse uccisero i gattini, che poi sono rinati nel tartaro? Non lo so. «È carino», disse Bob, mentre il micio gli annusava un orecchio. «Ma è sicuro?» chiese Annabeth. Il titano grattò la bestiola sotto il mento. Annabeth non era certa che portarsi dietro un gatto nato da una zanna di tigre preistorica fosse una buona idea, ma ormai la sua opinione non contava più. Il titano e il micio l'avevano legato. «Lo chiamerò Bobbino», disse Bob. «È un mostro buono!» Fine della discussione. Il titano sollevò la lancia e ripresero a marciare nell'oscurità. Annabeth camminava come stordita, sforzandosi di non pensare alla pizza. Per distrarsi, guardava Bobbino che zampettava sulle spalle di Bob e faceva le fusa, trasformandosi di quando in quando in uno scheletrino lucente, per poi tornare subito una palla di pelo pezzata. «Ci siamo!» annunciò Bob, fermandosi così all'improvviso che Annabeth per poco non lo investì. Scrutò in lontananza verso sinistra, come assorto nei propri pensieri. «È questo il posto?» domandò Annabeth. «È qui che dobbiamo andare da una parte?» «Sì», confermò il titano. «Il buio più buio e poi da una parte!» Annabeth non capiva se fosse davvero più buio di prima, ma l'aria sembrava più fredda e densa, come se fossero entrati in un microclima diverso. Di nuovo ripensò a San Francisco, dove bastava cambiare quartiere per ritrovarsi con dieci gradi in meno. Si chiese se i titani avessero costruito il quartiere generale sul monte Temalpais, perché la baia ricordava loro il tartaro. Che pensiero deprimente! Solo i titani potevano guardare un luogo così bello e vederci un potenziale avamposto dell'abisso, un sostituto dell'inferno. Bob si avviò verso sinistra e i ragazzi lo seguirono. L'aria si fece più fredda. Annabeth si accostò a Percy per scaldarsi e lui le mise un braccio intorno alle spalle. Era bello starsene così vicini, ma lei non riuscì lo stesso a rilassarsi. Entrarono in una specie di foresta. Immensi alberi neri si levavano nelle tenebre, con i tronchi perfettamente rotondi e privi di rami, come il fusto di peli mostruosi. Il terreno era liscio e pallido. «Con la fortuna che abbiamo, come minimo stiamo attraversando un'ascella del dio tartaro», pensò Annabeth. All'improvviso tutti i suoi sensi schizzarono in allerta, come se qualcuno l'avesse colpita con un elastico sulla nuca. Posò la mano sul tronco dell'albero più vicino. «Che succede?» Percy sollevò la spada. Bob si voltò a guardare confuso. «Ci fermiamo?» Annabeth sollevò una mano per invitarli al silenzio. Non sapeva di preciso cosa l'avesse messa in allarme. Non sembrava esserci niente di diverso. Poi si rese conto che il tronco stava vibrando. Per un attimo si chiese se non fossero le fusa del gatto, ma Bobbino dormiva sulla spalla di Bob. A pochi metri di distanza, un altro albero tremò. «C'è qualcosa che si muove sopra di noi!» bisbigliò Annabeth. «Serriamo i ranghi!» Bob e Percy si accostarono subito a lei, schiena contro schiena. La figlia di Atena guzzò la vista, sforzandosi di scrutare nell'oscurità che li sovrastava, ma non vide muoversi nulla. Aveva quasi deciso che era solo una sua paranoia, quando il primo mostro piombò a terra, a meno di un metro di distanza. Il primo pensiero di Annabeth fu «Le furie!». La creatura era quasi identica a una furia, ali rugose da pipistrello, artigli di ottone e occhi rossi. Indossava un vestito stracciato di seta nera e il volto era atteggiato a una smorfia feroce, come una nonnetta demoniaca in vena di omicidi. Bobb sbuffò quando una creatura simile atterrò di fronte a lui e un'altra ancora piombò davanti a Percy. Ben presto si ritrovarono circondati da una mezza decina di demoni. Altri ancora similavano fra gli alberi, sopra di loro. Le furie erano solo tre, perciò non potevano essere loro. E poi le streghe alatte che avevano di fronte non erano dotate di frusta. «Ma era una magra consolazione», pensò Annabeth. «Gli artigli di quei mostri sembravano molto pericolosi». «Che cosa siete?» domandò. «Le Arai!» sibilò una voce. «Le maledizioni!» Annabeth cercò di individuare chi avesse parlato, ma nessuna delle demoni aveva mosso le labbra. Gli occhi erano spenti, i lineamenti del viso immobili, come quelli di un burattino. Le voci fluttuavano nell'aria, ricordavano il narratore fuoricampo dei film. Quasi fosse una sola mente a controllarle tutte. «Che volete?» chiese, cercando di mantenere un tono sicuro. La voce ridacchiò malvagia. «Vogliamo maledirvi, naturalmente! Distruggervi mille volte nel nome della Madrenotte!» «Solo mille volte?» mormorò Percy. «Oh, bene! Pensavo che fossimo né guai!» Il cerchio delle demoni si strinse.